C'è ancora il più fitto mistero sulla morte di Grazia Prisco, 80 anni di Sarno, il cui corpo senza vite è stato ritrovato in una località collinare di Mugnano del Cardinale ed ora si trova all'ospedale Moscati di Avellino. Saranno gli esiti dell'esame autoptico a chiarire anzitutto le cause del decesso, ma per quanto riguarda la dinamica di quanto accaduto nell'area decente il lagno di acqua longa dove è stato rivenuto il corpo della donna, è ancora tutto da verificare e da capire. Forse un malore o forse un incidente, quasi sicuramente però una strada imboccata per errore mentre la donna era con un suo amico non tanto unenne di Sarno a bordo di una pecarra. L'ipotesi più accreditata in queste ore è che i due anziani abbiano proprio sbagliato direzione, finendo poi complice il buio per perdersi sulla montagna di Baiani, località Arco di Arienzo che è proprio caratterizzata da una fitta boscaglia. L'anziana donna si era allontanata da casa in masseria scescia lavorate di Sarno insieme all'81enne. L'ultimo avvistamento risalirebbe a sabato 11 marzo, quando la donna si sarebbe recata in un salone di parrucchiere lungo la nazionale di Mugnano del Cardinale per chiedere alcune informazioni, una circostanza che è stata confermata dai rilievi effettuati da un sistema di videosorveglianza privata. Poi nessun'altra notizia fino a quando nel comune di Baiano in stato di shock era stato ritrovato l'uomo che ora è ricoverato all'ospedale Martiri di Guina Malta di Sarno con un trauma cranico. Nonostante i diversi interrogatori, l'anziano non sarebbe ancora riuscito a fornire alcuna spiegazione, a cominciare dalla presenza sul territorio baianese fino all'accaduto. Non si esclude anche che i due siano rimasti vittime di un incidente un'avaria del mezzo, dopo il quale l'uomo si sarebbe allontanato per chiedere aiuto lasciando la donna quindi nel mezzo. Il cadavere di Grazia Prisco è stato trovato poche centinaia di metri più avanti rispetto alla PECAR ed è stato individuato grazie alla segnalazione di un agricoltore del posto. Le indagini serratissime sono coordinate dalla procura di Avellino.